un grosso applauso Maurizio Maurizio è un veterano ha partecipato dalla prima all'ultima edizione un salvaggiano, dai, urto vai, vai Maurizio vieni Maurizio, vieni qua Maurizio di Cava presentati, dai sono un nativo è residente di Cava dei Tirreni sotto 8 mesi e mezzo una settimana a Passiano a Passiano, sarebbe un quarto d'ora dal ceglio, scusa comunque sono di residente di Cava dei Tirreni sei di Passiano di Cava dei Tirreni di Tirreni, ho 54 anni cosa ci chiede Adriano Celendani il ragazzo della via Guff di Adriano Celendani Maurizio Ferrara sei pronto, vai vado aspe, aspe aspe, aspe, Aspe Maurizio, aspe Questa è la storia di uno di noi Anche ruinato quel caso di Tia Clu In una casa fuori città C'è gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'espaura c'è una città E quella casa in mezzo al verde ormai Dove sarà... Questo ragazzo nell'aria blu Si diventava a giocare con me Ma un giorno disse Vado in città e lo diceva mentre pianceva E ogni domanda dico non sei contento Vai finalmente a stare in città Ma troverai le cose che non hai avuto qui Potrai lavarti in casa E già andare giù nel cortile Mio caro amico disse Ma verrà un giorno che mi tornerò Ancora qui E sentirò l'amico E non credo che un tisca così Ma va Passano gli anni ma 8 sono lunghi Però quel ragazzo ne ha fatta di strada Perché non ci scolla la sua prima casa Ora con i soldi lui può comprarla C'è un nello trovo Gli amici che aveva Sono case su pace Tutti con le mani E compagniamo E non credo che evitano E non c'era e non c'era il vento E non c'era il vento Ora c'è una città E quella casa in mezzo al verde ormai Dove sarà Dove sarà Non so, non so perché continuano a costruire le case E non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba E no, che andiamo avanti così, chissà, chissà, come si farà Chissà, chissà, come si farà Bravissimo Maurizio Pellara Mauri, Mauri, Mauri l'hai fatto perfetto, specialmente, wow, è stato tale tu L'ha fatto grande, Maurizio l'ha fatto grande Don Ciro, per la... No, dopo se c'è la postigamità, lo facciamo fare il piste Oh, piste, che i panini ci ho faccio La pericolera l'ha consegnato il suo mentore, Mario Coda Vabbè, dovevo essere riuscito, Mauri venire qua, venire qua, che bu? Venti a fare la fotografia Mauri, un bello voto Voto rende i voti, Maurizio Oh, la fatica, la fatica La fatica E' verica E' verica 5, 5, 7, 7, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5. Milite. Milite. Allora ti presenti Antonio. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonio, sono residente a Cavali di Reni, ma sono nato a Nocera Inferiore. E ho 22 anni. Allora, prima di far partire la base voglio dire che questa che sto per cantare è una canzone molto bella di Leo Ferrucci che dedico alle mamme che non ci stanno più, ma pure le mamme che stanno ancora, che stanno bello. Perché la mamma è l'unica persona che ti dà la forza di vivere in questa vita non troppo facile. La canzone, il titolo della canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania, Leo Ferrucci. La canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania. La canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania. La canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania. La canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania. La canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania. La canzone è Ciamang, mamma l'artista di Giuliano in Campania. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 prima ne ho perso di niente con te dici per te e me vuoi accortarti qui devo vedere chi vuoi se vuoi tutto in tanna mamma, questo che mi ha mandato a voi se stiamo persi la rete non si può tornare nella vita ci siamo a insegnare, è vero però ci mettiamo ancora più a paura pensando che i giorni di papà vicino a te siamo a rifusati grazie viva le mamme, viva anche i papà grazie grazie un applauso ad Antonio Milite, alla signora Luisa la votazione, siamo pronti, giurati otto 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 sette cinque sette sette otto sette grazie un altro applauso ad Antonio Milite bravissimo grazie